E' stata una nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Cagliari. La scuola di pronto intervento 2A è stata chiamata alle 2.30 circa per un incidente stradale che si è verificato in via dell'autonomia regionale Sarda, all'altezza quasi di via della Buganvillea a Quarto e Sant'Elena. Per cause ancora da accertare un'auto ha perso il controllo ed è uscita di strada impattando un palo dell'illuminazione pubblica e dopo essersi ribaltata ha terminato la sua corsa all'interno di una proprietà privata. I quattro ventenni che si trovavano all'interno dell'auto sono stati trasportati in codice rosso in ospedale ma nei primi accertamenti sembrerebbe che nessuno di loro sia in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale. Al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno operato per prestare assistenza alla radiomobile dei carabinieri del comando a stazione di Quarto intervenuti sul posto per gli accertamenti e rilievi di legge. Il secondo intervento è avvenuto a Sestu. La squadra 1A è intervenuta intorno alle 2.20 in via Andrea Costa per l'incendio di un'auto in sosta. Gli operatori arrivati sul posto hanno delimitato l'aria e spento le fiamme che fortunatamente non si sono propagate alle auto parcheggiate vicino. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rovo.